Ciao a tutti ragazzi benvenuti al canale Napoli oggi ha vincito la quarta zero che ha fatto una partita era brava, è stato brava, però non troppo bello come quella delle partite che sono passate la settimana passata 5-0 contro Torino, non è tanto bello oggi contro la Fiorentina in quarta uno però una vittoria, una vittoria mi dispiace perché a Roma prima ha vincito contro Kiev 5-3 allora il Napoli ancora è stato il terzo posto, hanno avuto l'ultima settimana, l'ultima partita che succede il Napoli contro Sampdoria e la Roma contro Genova allora dipende da loro, tocca a loro perché il Napoli si vengono, oppure si vengono fosse non più il secondo posto è una cosa difficile perché a Roma sta giocando bello poi la partita contro la Juve, la Juve è vero, non è vero che non ha giocato, capito? hanno fatto vengono perché loro sanno che erano vengono contro Crotone e basta ma prima che parliamo della partita piacere iscriverti al canale e un thumbs up un like per piacere a 49 subscribers tam allora 57 io per direi, non sono finito in Napoli però io vivo in America, sono da New York allora parlo sul Napoli l'Italiana mia ne voga medzi medzi, capito? allora la partita oggi, a quarta uno prima che ho avuto qui lì, ottimi o ottesimi minuti per lì, l'Italiana non c'è la partita è una partita se hai due gol in assistenza questa partita brava stagione, insinio fatto il gol come la settimana passata. Bello gol, non savo il suo giusto, se non savo il suo giusto, non savo il suo giusto. Prima che hai, hai raggiunto il suo giusto, se hai giusto il giusto, se hai giusto il giusto, se hai giusto il giusto, poi hai giusto il giusto, quello è giusto il giusto, però hai giusto troppo tempo, poi prima te fai il giusto il giusto. come la settimana passata poteva essere pure 5 a 0 un'applico in questi gol e i voti fanno passaggi tra passaggi dopo non fanno dire buono e nè fanno poteva essere 10 a 1 questa partita 10 a 3, 8 a 3, invece 4 a 1 potrebbe essere 0 a fatti a Mertensi, pure un caccio d'angoli due gol dopo caccio d'angoli, è strano ha fatto un gol che mi pare che Tato Rossano forse aiutava la gamba a fare la valla non ho già capito proprio cosa è successo non c'era la difesa però Mertensi aveva lavorato nella porta ha fatto 3 a 0 e poi Ilicic ha fatto il gol per Fiorentina Fiorentina ha giocato oggi ha tenuto la palla in mezzo in mezzo con Napoli ha fatto una varie chance Reina oggi è stata grande ha fatto due parate grosse una che una diviazione fosse abbia dato la palla poi se viene per Dini l'abbia solo con la mano che ha curito la palla per farci fuori per fare una parata poi ho fatto una parata che già era quarta 1 contro Babacar alla fine della partita per non fare quarta 2 ha fatto una bella parata perché Babacar stava sull'is e non stava fuori il gioco era regolare allora Reina ci ha salvato pure due gol e poi il quarto gol a Roppi e poi lì Ilicic ha fatto 27 gol ed è un bravo bravo giocatore mi fa piacere pure che ha segnato tutti i due gol perché Dzeko ha vinto 8 ecco ne sappiamo forse finisce pure capocannoniero ma che sarà la partita è sempre la squadra più forte però sul che la Fiorentina ha giocato oggi ha fatto una varie occasioni sul che Reina ha salvato e poi un'appo di occasione ha fatto più ha fatto più giocatore a Fiorentina e questo è un'appo sembrano non ha squadra più in me Insigne è bravo Cajon è bravo Cajon si ha mangiato è pure un pari di gol che poteva fare però Cajon che stia l'ultima settimana sta giocando bellissimo solo che mi dispiace perché i poti i tiri fa oh è sbagliato o fa troppo un passaggio che io sai noi diciamo in america fa un'extra pass e... e per di mamma ma che fa un'amore vingiuta bellissimo tre punti solo che ora vediamo che succeda la settimana su terza boss se potremmo la Champions League prima... come si dice prem... preliminari preliminari è così si dice eh... come si dice preliminari speriamo che fanno qualcosa però speriamo che abbiamo la seconda boss e non non speriamo non speriamo la terza boss speriamo che succederebbe un'altra cosa allora allora adesso iscrivete al canale iscrivete per il piacere un like forza è un esempio a voi un'unico forte o è bene chi sono? ci sentim la settimana che tra ciao fortuna sempre bene ciao